Le patologie della spalla sono in crescita, colpiscono sempre più persone, anche a causa dell'aumento dell'età media della vita. I medici non hanno solo a che fare come in passato con le fratture del collo del femore, ma anche con la testa dell'omero. Quali trattamenti sanitari allora vanno seguiti? Una risposta che medici ed esperti dell'ortopedia cercheranno di dare nel corso del XIII Congresso regionale dell'Associazione Pugliese Lucana degli Ortopedici Traumatologi e Ospedalieri che si terrà nella sala consigliare di Melfi in Basilicata, sabato 27 ottobre. Buon allungamento della vita media. Per quanto riguarda i traumi bisogna smitizzare il fatto che siano prevalentemente a carico del collo del femore, per il quale per fortuna esiste anche una legge nazionale che ci invita a rispettare di intervenire entro tempi ristretti, che per tutta l'Italia sono ormai le 48 ore. Ma anche per la testa dell'omero, l'alta incidenza ormai di questi traumi in questa sede impone che si faccia un po' il punto su come trattarle meglio. L'ortopedia Lucana avanza ed è un esempio il fatto che la regione, a differenza della vicina Puglia, riesca a dare spazio all'ingresso di nuovi ortopedici. Questo evento così importante a Melfi che raccoglie ortopedici di Puglia e di Basilicata sta proprio a dimostrare che non c'è questa grossa differenza, c'è purtroppo una regione piccola, una regione in cui per fortuna si riesce a dare ancora risultati adeguati a quelle che sono le richieste del territorio.